Il segno che l'Italia cambia. Prendono forma le primarie attraverso cui i cittadini sceglieranno direttamente i parlamentari del PD per la prossima legislatura. La direzione nazionale ha dato il via libera alle regole. Si vota il 29 o 30 dicembre, in base alla scelta delle singole regioni. Non ci sarà nessun listino del segretario. Andranno a primarie il 90% delle candidature, mentre il restante 10% verrà scelto attraverso criteri di competenza e autorevolezza dalle diverse direzioni regionali in accordo con la direzione nazionale. Sono esclusi dal conteggio i capilista, che potranno comunque essere scelti anche tra i partecipanti alle primarie. Solo 10, anche se da statuto del PD sarebbero potute essere oltre 30, le deroghe votate dalla direzione per alcuni parlamentari con oltre 15 anni di mandato. Questi dieci nomi dovranno comunque passare attraverso il voto delle primarie per tornare in Parlamento. Altro elemento innovativo riguarda la quota femminile che andrà a formare le liste del PD. Nel caso in cui si scelga di dare due preferenze, sarà obbligatorio indicare un nome maschile e uno femminile. Nel caso in cui si scelgano due uomini o due donne, la seconda preferenza verrà annullata. Ciò porterà il PD a superare la quota di un terzo di presenza femminile nelle liste, per cui risulta già oggi il primo partito in questa speciale classifica. Riguardo alla definizione dell'elettorato, potranno votare tutti i cittadini iscritti all'albo degli elettori del centro-sinistra, che si sono registrati in occasione delle primarie per la scelta del candidato premier, e tutti gli iscritti al PD del 2011 che rinnovino la tessera fino al momento del voto. Infine, il capitolo candidature. I parlamentari uscenti potranno presentarsi senza la necessità di raccogliere firme. Tutti gli altri candidati dovranno raccogliere una quantità di firme pari al 5% degli iscritti al PD nella federazione provinciale di appartenenza. In ogni caso saranno sufficienti anche 500 firme per ogni provincia. Spetterà dunque alle federazioni provinciali presentare le rose dei candidati, che possono raggiungere al massimo il doppio del numero dei candidati spettanti alla provincia nelle liste circoscrizionali. Dopo il voto, sarà compito delle direzioni regionali e della direzione nazionale approvare definitivamente le liste, prima che vengano presentate entro le ore 20 di lunedì 14 gennaio.